Ragesh mi è arrivato fuori non c'era un'altra scatola di cartone a coprirlo quindi tutti hanno visto quello che si cela dentro questa bestia qua e niente lo apriamo subito la scatola è bella pesante oppa allora cornice di polistirolo kickstarter bonus content nemesis questo qui è il gattino di dietro coming soon ci dicono già che c'è tainted grail su kickstarter quindi la Waken Realms sta facendo anche un po' di pubblicità al suo prossimo progetto dentro invece c'è la bestia eccolo qua ok la scatola da chiusa non si chiude del tutto quindi è così vedete solito spazietto sotto vediamo che cosa c'è dentro manuale game manual don't want to read the rules watch the video c'è anche un video che sembra che ti spieghi come come giocare bisognerebbe andare a controllare quel sito internet qui c'è tutto il manuale mettiamo da parte per un attimo basic rooms 1 basic rooms additional rooms 2 questo deve essere penso io un riassunto su tutti i tipi di di tessere quindi distanti che possono esserci sulla nostra navicella lo mettiamo un attimo insieme al regolamento eccole qua iniziano le vere e proprie fustelle emergency room infatti queste sono le tessere questo è tutto da defustellare ci sono i motori engine vediamole un attimo queste sono le capsule secondo me sono quelle per scappare dalla nave intruder board ok questa qui deve essere la plancia degli alieni quindi character corpse ah qui ci sono le sue debolezze e qui ci sono riassunti anche i simboli dei vari tipi di intrusi che andremo ad affrontare la larva il creeper l'adulto breeder e la regina poi qua ci sono altre stanze e altri motori altri token motori ecco qua queste saranno le classi immagino capitano meccanico poi dopo ci sarà pilota scienziato scout madonna quante classi se non ricordo male quando ho fatto kickstarter c'era anche una classe in più adesso se non vado errando è soldato qui ci sono sempre delle tessere eccoli qua questi sono i token se sempre se non ricordo male queste sono le uova questi qui sono i corpi corpi dei giocatori quando muore un giocatore lascia un token con il suo cadavere questi qui sono dei segnalini evento direi da dietro si esplorazione e questi qui invece sono i token penso che ci sia un sacchetto da cui noi peschiamo questi token in base a cosa peschiamo andiamo ad aggiungere alla plancia il vario tipo ad esempio questa qui è la larva poi c'è breeder queen intruder questa è quella della queen eccetera eccetera quindi quelle sono le plance mi sembrano finite madonna santa ah no c'è ancora questa nemesis questo sembra una cosa da montare vedete che questi qui si tolgono queste sono le porte a da mettere in 3d probabilmente queste qua avrà la basetta qui c'è anche gattino first player token questa qui invece è la plancia di gioco che mi sembra gigantesca proviamo a stenderla un attimo mamma mia enorme messa al contrario ok gigantesca guardate la mia mano che già non è piccola quindi è bella grande se non ricordo male perché sappiamo che questi starter arrivano dopo un tot di tempo adesso a waken realm si è stato anche veloce infatti non mi ricordavo male c'era anche la faccia dietro quindi c'era una versione c'è la versione base una versione più difficile della plancia di gioco richiudiamo prima di fare dei danni poi passiamo al contenuto vero e proprio della scatola quindi le miniature sono gasatissimo allora tre il perfetto di plastica sotto c'è dell'altra coperchietto quindi qui già ci siamo dadi token fiamma questi token qua saranno quando applicate gli incendi dentro la nave queste qui saranno adesso i breeder oppure le larve con le larve mi sembrano più piccole questi devono essere i mostri di già un po più grandini qui abbiamo sacchetto che vi dicevo ecco quello dove va messi dentro i token per pescarli per vedere che cosa spawna dentro la nave qui invece sono gli standies invece avevo previsto anche questo questi sono quelli da mettere sotto le porte direi scanner questa è una figata pazzesca perché ci sono delle carte contaminazione che hanno uno spazio vuoto se noi durante il gioco ci andiamo a scansionare passiamo sopra lo scanner a queste carte e ci appare la scritta o meno infetto quindi solo attraverso questa carta questa scansione adesso non so bene come funzioni però l'avevo letto sul manuale a insert a ecco ecco insert contamination card here qui c'è un piccolo spazietto ecco dove si mette si infila qui dentro e viene fuori la scritta infetto per vedere siamo infetti oppure no questa è una figata pazzesca qui ci sono tutti gli altri token che adesso io non so precisamente cosa sono queste saranno per le basette degli eroi questi sono i token rumore non quelli gialli quindi quando facciamo casino nemesis vado a intuito questi potrebbe essere giocatore numero 5 i card holder quindi noi ci piace alle carte qui per non farle vedere agli altri giocatori stanno su da sole questo ragazzi è un tocco di classe e poi vediamo un attimo le miniature come sono fatte io sapete che ho l'occhio buono per i modelli le miniature direi che sono una figata pazzesca direi che non c'è alcun tipo di dubbio sono leggere ah no forse quella che ha visto prima era la larva questo qui è il creeper secondo me questa è la larva che è quella piccolina questo qui invece è il creeper è quello che non cammina ancora tanto bene però sciotta già rimetto ci coperchiettino di plastica che chiaramente non ci starà mai più in tutta la vita tre volte che apri un gioco nuovo non sto attento a come erano messi e dopodio invece ci sta andiamo a vedere quel numero 2 che c'è qua dentro qua ci saranno tutte le carte ui la madonna carte 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 action i giocatori hanno degli action deck in base alla loro classe intruder attack queste sono carte boh evento non lo so queste sono carte piccoline ah ok coordinate item sono gli oggetti e tutto quanto bellino che cosa vedono i miei occhi questo potrebbe dargli il premio come miglior case editrice della terra empty space for sleeved cards spazio vuoto per le carte imbustate grazie al signore che ci venite in aiuto ah che bello questo invece sarà lo spazio per tutte le tessere da defustellare questi sono i bomboloni quindi quelli sono quelli più grossi questo sarà quello breeder si chiama mi sembra quelli lo step prima della regina quelli grossi duri questi qui sono quelli in piedi davvero stupende le miniature sono fantastiche questa è la regina che bella grande c'è tutti un po di saprolingi fetidi qui sotto alla base anche questo modello qui ha una figata pazzesca andiamo a vedere invece il bonus content perché qui è tutto finito quindi quello che contiene nemesis è qua mettiamo dentro per benino tutto quanto eccola qua la scatola col gattino allora vediamo c'è un po di roba abbiamo una scatolina tainted grail the fall of avalon art book madonna santa vediamo un po cos'è sto libro tainted grail si stanno avvertendo che sta per uscire un gioco che sembra veramente una figata pazzesca ha le carte con scritte sopra anche di seventh continent con le miniature però illustrazioni veramente stupende insomma vabbè ho capito che anche questi qui i soldi bisognerà cacciarseli perché sennò qui c'è un modulino da defustellare con dei simboli adesso questo sarà un qualche tipo di espansione qui c'è una busta segreta bomba una moneta d'oro massiccio con un calice questo sarà sicuramente tainted grail c'è un po' di pubblicità al loro prossimo articolo ah ok ci dice you will find there dice cosa troviamo in questa scatola tainted grail the fall of avalon art book che è quello che abbiamo visto tainted grail the fall of avalon promo metal coin che è quello che ho tirato fuori adesso aetherfield playing card deck game from another game we are currently developing sarà questo qua quindi dice carte da gioco di aetherfield madonna santa che figata sono proprio carte da poker bellissime madonna poi vediamo cos'altro troviamo untold stories a free 80 page long nemesis co-op campaign storybook cioè un libro storia per giocare a nemesis che è questo qua untold stories number one tipo una campagna se non sbaglio ah c'è anche del fumetto bellissimo general rules più ci sono ah ecco vedi che vengono usati i token che sono dentro questa scatolina mission one breaking the quarantine stupendo bellissimo ragesh serve dire che sono veramente elettrizzato assolutamente no quindi non vedo l'ora di metterci le mani ci vediamo al prossimo video ciao ciao